Se state per fare un viaggio negli Stati Uniti e avete una carta PostPay, vi starete domandando se potete utilizzarla nel paese americano. La risposta breve è sì, potete utilizzare sia la carta PostPay standard che la PostPay Evolution. L'unica cosa che però dovrete fare è accertarvi che avete sbloccato l'opzione che rende la carta disponibile a livello internazionale. Dovrete infatti andare sul portale online di PostItaliane, chiamare il servizio assistenza di PostPay o recarvi in un ufficio a PostItaliane per poter effettuare questa operazione. Infatti, se la carta non è sbloccata a livello internazionale, non potrete effettuare operazioni come ad esempio i prelievi. Inoltre, dovete ricordare che non essendo in zona euro, si potrà incorrere in costi aggiuntivi dato che si utilizzerà il dollaro e si tratta comunque di operazioni internazionali. Come abbiamo già detto, dovrete sbloccare la PostPay a livello internazionale prima di partire. Potrebbe essere che sia già sbloccata, ma è sempre meglio controllare dato che è una cosa molto importante. Infatti, ti basteranno pochi clic e avete la vostra risposta. Fate il login nel portale di PostItaliane e cliccate su Le mie carte. Dopodiché, controllate che ci sia un check che abilita l'utilizzo della vostra carta PostPay a livello internazionale. Fatto ciò, potrete tranquillamente utilizzare la vostra carta PostPay in territorio americano. Anche in questo caso, potrete tranquillamente fare pagamenti con il POS, anche se vi saranno adebitate delle commissioni che al momento sono 1,10% dell'importo della transazione. Ricordiamo inoltre che vi potrebbero richiedere un documento di identità in alcuni negozi per poter verificare la vostra identità e confermare l'esito positivo e controllato della transazione. In alcuni posti, preferiscono i contanti e in generale consigliamo di portarvi sempre a presso un documento di identità per poter fare un'azione di verifica in caso il negoziante lo richiedesse. Un'ulteriore nota di attenzione va posta nei confronti degli hotel americani nella quale volete fare il pagamento con la vostra carta PostPay. Infatti, sta crescendo il numero di hotel che non accettano questa forma di pagamento o che richiedono ulteriori verifiche, essendo quindi più puntigliosi se utilizzate questa opzione di pagamento. Uno dei vantaggi principali della carta PostPay sta nel fatto che si può ricaricare una volta terminato il saldo residuo. Tuttavia, se vi trovate in America, come potete fare? La ricarica della carta PostPay in America è quasi impossibile se utilizzate in metodi tradizionali. Avete due opzioni principali. La prima è utilizzare il conto BancoPosta per effettuare la ricarica della PostPay. Il secondo è chiedere a un parente oppure a un amico che si trova in Italia di ricaricare la carta per voi da lì. Tuttavia, se disponete di una carta PostPay Evolution, potete tranquillamente effettuare un bonifico per potervi versare la somma di denaro necessaria per la vostra ricarica. Ovviamente le tempistiche variano e ci sarà comunque del tempo da aspettare. Speriamo che questo video sia stato utile e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube abbiamo tantissimi video sulle carte per pagate e le carte di credito disponibili in Italia. Ci vediamo al prossimo video.